E noi siamo il gruppo Nessuno. Il gruppo Nessuno comprende un negozio di vestiti che si chiama Nessuno Store, uno skatepark che si chiama Arca Skatepark e uno studio di musica che si chiama Nessuno Studio. E un'aggiunta molto importante è l'hamburgeria. L'hamburgeria era bireria che si chiama Fame. Noi siamo in Viaggia Cosa 35, qui troverete un gruppo pazzesco che lavora con la creatività, con la musica, con lo skate, si fa da mangiare, da bere. Quindi ci trovate in Viaggia Cosa 35, zona Nolo, Milano. Siamo qui appunto a creare questa comunità, a fare amicizia, a fare connessioni e mangiare, skateare, vestirsi e registrare musica e tanto altro. Quindi Viaggia Cosa 35, Nolo, Milano, skatepark, hamburgeria, negozio di vestiti e studio di musica. Ok? Zona Nolo, Viaggia Cosa 35. Ci trovate qui. Ciao. Ciao, io sono Il Gasi, questo è il podcast di Il Gasi. Qui con me in Reggio c'è Fabio Verla. Fabio Verla, è giusto Fabio? Verla. Ver, fe, perla, verla, verla. Ma come furla. Verla. E oggi, ospite, specialissima, Ilaria. Ilaria, di cognome? Trulie. Trulie. Trulie, poi ti dirò come si scrive. Trulie, ma è tipo francese? Penso di sì, ogni volta che incontro qualcuno che è francese, dice no, non è francese, è portoghese. Ti confonde un po'. Nessuno vuole prendersi la responsabilità di questo cognome. Ok. Scramo, insomma. Ok. Ma sembri un po' francese, un po'. Forse per come mi vesto ogni tanto, ma non lo so, non saprei. Ma lo sai che è un super piacere averti qua? Ah, grazie. È un piacere essere qui. L'altra volta mi sono divertita a interrompere malamente chi. Esatto. Se volete vedere Ilaria nella puntata in cui ha invaso, ha invaso la puntata. Sì. La puntata di Pietro, Pietro Agostini, quindi la potete vedere lì. Era così interessante Ilaria che l'abbiamo chiamata per una puntata, per una puntata vera e propria tutta sua. Grazie. Adesso abbiamo un altro ospite, magari dopo vuole intervenire, che fa il mio scopo. Esatto, esatto. Dopo sicuramente Arianna, giusto? Arianna. Dopo la interpelliamo, vogliamo capire che cosa fa e fisseremo una data. Ormai faremo così, chiameremo l'ospite e un amico, così fissiamo direttamente un due in uno e siamo a posto. Come stai? Bene, bene. Ho finito di lavorare un po', cioè, un'oretta fa e quindi sono venuta qui, è stata una giornata tranquilla. Tu stai bene? Ho passato una buona Pasqua. Eh sì, sto bene, ho passato una buona Pasqua, ho mangiato tanta carne e soprattutto perché siamo registrando la puntata dopo Pasqua, quindi è bisogno dirlo perché magari dicono Pasqua, è già passata da un botto. È vero, è vero. Stavi lavorando, ma che lavoro fai tu? Perché sei qua seduta in questa serie? È una bella domanda. Allora, io, il mio titolo è Rigger 3D. Rigger 3D, ok. Che è un, diciamo, una figura che opera all'interno dell'animazione 3D. Ok. Prima il modello viene scolpito da qualcuno e prima che venga animato viene costruito, diciamo, un puppet con vari controlli e varie, diciamo, funzionalità e, diciamo, possibilità di deformazione e poi questo puppet viene dato in mano agli animatori che lo manipolano all'interno del software 3D e creano appunto l'animazione in keyframe e poi questa animazione viene esportata e in particolare, nel mio caso specifico, viene esportata per videogiochi. Ok. Madonna, che figata. Eh sì. La cosa figa è proprio questo, perché se eri una Rigger e basta, io nemmeno ti chiedo. No, scherzo. Beh, allora, come ti stavo dicendo prima, tu che fai animazione 2D, sei responsabile, insomma, di tutta la produzione dell'immagine, tipo, di ogni frame che produci, tu crei l'immagine dall'inizio alla fine. E nel 3D, diciamo che per avere il vantaggio di poter, diciamo, riutilizzare alcune cose, cosa che nell'animazione 2D non hai, perché ogni frame devi praticamente disegnarlo da zero, specialmente all'animazione tradizionale, per avere il vantaggio di riutilizzare, per dire, l'aspetto del personaggio o l'ambiente. Oh, oddio. si vengono... è stato, diciamo, il processo scomposto in tante fasi che sono, diciamo, tanto lunghe quanto la creazione dell'animazione 2D stessa e quindi ha creato tantissime specializzazioni diverse, per dire, io sono una rigger, in realtà io preferisco technical artist. Technical artist. Technical anime o technical, sì, dà un po' più di... importanti. Io sono una rigger, sembra tipo... Anche perché... delle impalcature sui teatri, per dire, i camera rig. Quindi ogni tanto su LinkedIn mi incontattano persone che non hanno capito cosa faccio e pensano che io sia una tecnica delle luci o tipo delle costruzioni, cosa che non ha nessun senso. Scusa, mi puoi montare le luci? Esatto, tipo, staremo cercando delle figure per questo cantiere? Scusi, io non faccio quello. Quindi preferisco technical animator, anzi, perché sono una technical artist specializzata nella pipeline di animazione. Quindi creo i... Hai detto un sacco di parole in inglese. Dicevamo prima, ci vorrebbe un barazzolo in cui mettere una moretina per ogni... È solo che anche i software, i tutorial e insomma tutte le risorse disponibili per imparare sono in inglese e quindi uno tende a pensare alla propria professione in inglese. Non giustificarti. Io non so se tu usi After Effects in portoghese o in italiano. In inglese. Lo usi in inglese, ma lo usi perché tutti i tutorial e tutte le risorse appunto sono... Per la maggior parte delle risorse viene creata da utilizzatori e insegnanti inglesi, quindi è difficile seguire una lezione su una UI che è la tua in inglese, la loro è in portoghese. Esatto. Quindi alla fine tutti... Anche le persone italiane che lavorano in Italia penso utilizzino i termini inglesi quando parlano di queste cose. Sono stato rimproverato per aver usato After Effects in italiano. Sì, è bad practice. All'inizio di quando ho iniziato, quindi è andato così. Quindi principalmente per i giochi. Sì, io ho lavorato solo in videogiochi. Per dire, quando era all'università ho lavorato anche su dei corti appunto per laurearmi e probabilmente in futuro lavorerò anche per cinematiche o serie tv. Cioè non escludo di poter fare anche questo, non è che ho il mio cuore sui videogiochi. Ci sono invece alcune persone che vogliono lavorare solo nei videogiochi e stanno bene lì e gli piace proprio... Sono più appassionati di videogiochi che di serie tv ed è quello che vogliono fare o gli interessa di più il processo o sono più interessati a risolvere problemi tecnici specifici dei videogiochi perché poi c'è anche una differenza nelle, diciamo, le costrizioni che uno trova lavorando nel 3D per videogiochi e lavorando nel 3D per serie tv. Ok. E la maggior parte della differenza è che nei videogiochi ogni frame deve essere praticamente generato dall'immagine da zero in real time. 60 frame al secondo. Quindi ci sono, diciamo, devi fare dei compromessi a livello di rendering, a livello di complessità delle cose che puoi, insomma, renderizzare 60 frame al secondo. E dipende dalle piattaforme su cui vuoi far girare il gioco. Adesso ci sono le console di nuova generazione che sono, insomma, molto più potenti e molto più forgiving. Eccola. Eccola. Consentono, insomma, di raggiungere dei livelli, diciamo, di realismo elevati e ancora mantenere comunque una buona frame rate. Ok. Ma sai una cosa che possiamo fare? Sì. Ogni volta che dici un termine in inglese io mi do uno schiaffo in testa. No, vabbè, ti terresti molti schiaffi in testa, ti terresti con un trauma cronico. A fine puntata. Ci provo, vai. Ok, allora cercherò di non farti male. Non voglio farti del male. Invece per dire, nelle serie TV, cioè nei film, nelle serie TV ogni frame è pre-renderizzato, quindi quello che devi fare è semplicemente schiacciare play e il computer non deve mettersi a pensare a che cosa sta, cioè, sa già quale sarà, insomma, la luce, l'angolo di camera. Lo sa già. Lo sa, cioè, invece per i videogiochi c'è questo costo, insomma, sul... Di processamento. E quindi uno deve tener conto delle limitazioni, ci sono altri tipi di considerazione da fare. Sì, è più o meno questo. Se dovessi fare un paragone, adesso Fabio in questo momento sta curando la parte tecnica che è quella che fai tu nei videogiochi. Io sto giocando e non mi sono preoccupato della parte tecnica, oggi, per questo podcast. Quindi se facciamo un paragone, ti occupi di far divertire la gente. Sì. E fare la parte più complessa. In un certo senso. Beh, allora, direi che ci sono anche livelli di complessità, livello di competenza, di programmazione superiore ai miei. Io non sono in genere... Io non sono una programmatrice, non mi occupo di... Che umile, che umiltà. Credo che, tipo, i programmatori si ribellerebbero se io mi definessi tale. Io, in realtà, mi occupo di rendere la vita più facile agli animatori e a me stessa, perché... No, aspetta, le rendi la vita facile, oppure sei quella che dà problemi? No, sono... Loro hanno un sacco di richieste, talvolta irragionevoli. Ho immaginato questo. Però sono sempre delle sfide molto, insomma, interessanti di cui occuparsi. Quindi nella misura delle mie capacità e della possibilità che l'hardware dà, io sono del software, perché in realtà non è l'hardware, è il software Maya che ha delle costruzioni. Nel limite di queste cose, io cerco sempre di poterli soddisfarli, insomma. Cioè, se loro hanno una richiesta specifica per il rigo, comunque, di metodi di esportazione dell'animazione o tool che rendono l'animazione più facile a loro, io sono ben contenta di poter aggiungere una sfida più complessa, insomma, alla mia shoring, insomma. È un puzzle che è interessante risolvere. Sì, quindi gli animatori ti rompono le palle. Sì, anche... tipo, è una cosa che va tipo come una cascata. Gli animatori rompono le palle a me e io rompo le palle ai modellatori. Ok. E i modellatori rompono le palle ai concept artist, fino a che i concept artist non possono in realtà rompere le palle a nessuno. Sì, perché è vero, questo magari è un aspetto che possiamo vedere. Passiamo prima all'animazione, poi vediamo l'aspetto di chi modella e tu gli dici... È tutto uno scaricabarile, tipo, c'è un problema, di chi è la colpa? È colpa del modello? È colpa del rig? È colpa degli animatori? È colpa del rendering in gioco? È colpa del lighting artist? Non so... Arianna fa la lighting... il nostro pubblico fa la lighting artist. Lighting artist. E sì, quindi è necessariamente un lavoro che include tantissime persone. Non so tu con quante persone lavori per, insomma, finire un lavoro che poi il cliente, insomma, approva e è contento. Dipende molto, perché a volte sono io a fare il progetto, sia il design, sia i frame, che poi l'animazione finale, e a volte mi capita di collaborare con altri illustratori, che... O illustratori o grafici che fanno il frame e poi lo animo, quindi a volte sono da solo, a volte stiamo in tre o in due. Ok, però fate più o meno lo stesso lavoro, nel senso non siete... cioè, magari ti capita, stavi dicendo che potresti partecipare a un progetto di pixel art perché servono persone... Eh, perché no? Perché magari devo specializzarmi un pochino di più sull'animazione tradizionale e magari vedere molto la pixel art perché è molto più specifica, però sono libero di farlo, diciamo, se... Però per fare l'animazione ci saranno altri... tutte le altre persone che si occuperanno appunto di creare l'animazione saranno altri animatori 2D in pixel art. Sì. Non ci sarà qualcuno che fa il modello e poi il rig e poi... Cioè, tu sarai quello che fa il concept e l'animazione e nel fare l'animazione frame by frame crei necessariamente anche il modello e le capacità del movimento del modello stesso, quindi... è un processo di cui si ha più autorealità, diciamo così, mentre invece questo... il processo del 3D è un po' più scomposto ed è molto... cioè, quando uno vuole far vedere qualcosa che ha fatto, in realtà non sta facendo vedere solo il suo lavoro, sta facendo vedere il lavoro di almeno 10 persone o anche di più e... è difficile dire che quello è veramente tuo, però c'è una soddisfazione nel lavorare in un team e nel vedere che le proprie forze convergono tutte in un risultato finale di cui poi tutti sono soddisfatti. C'è anche questo, c'è la forza del gruppo, diciamo, che è la cosa del... è molto un po' più egoista la roba dell'animatore perché tu fai, diciamo, tutto in uno, sia i movimenti del character, l'acting, eccetera, tutto in uno. Cioè, disegni tu, magari fai lo storyboard tu... eh, sì, sì, è un po' più egoista. E ti dir... nel senso, intendi del 2D, stai parlando del 2D? 2D, 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 2D. No, perché ci sono degli animatori 3D che sono anche loro delle vere prime donne che pensano... che sono molto, insomma... Sta sputando. Sì, la parte più importante deve essere... devo dire che sono anche nella, diciamo, nella sequenza di cose da fare uno degli ultimi passaggi, quindi talvolta si beccano quello che noi chiamiamo, cioè, quello che si chiama overtime, ma in realtà in italiano sono straordinari. L'hai fatto tu? Sì, te l'ho ricordato. Sono alcuni di quelli che si beccano i straordinari un po' più duri perché sono alla fine del processo e loro... sì, esatto, esatto. Ci sono poi delle figure che non esistono tra l'ambiente dei videogiochi e quello dei film, perché per dire nei videogiochi non esistono i compositor e i compositor sono quelli che fanno... che si occupano, insomma, di finalizzare l'immagine una volta che è renderizzata, perché il render non esce e poi viene usato, così vengono fatte alcune correzioni, talvolta anche, cioè, non solo proprio correzioni, talvolta anche dei compositing, dal livello che, tipo, c'è un'intera città che non c'era prima, sono solo proiezioni su piani semplici che hanno fatto il compositor, adesso non... un compositor sarebbe in grado di spiegarlo molto meglio di me, io non voglio dire castronerie, ecco. Io ho fatto anche un po' di compositing in questo percorso. Ah, ok. Allora poi potresti spiegarlo tu molto meglio. È quello che si fa un culo così. Eh, loro sono proprio alla fine, fine, fine. L'ho spiegata. Loro sono proprio alla fine, fine, fine di tutto e talvolta ci sono situazioni in cui ah, si deve, il film esce tipo tra due giorni, però aspetta, stiamo ancora facendo compositing. Stiamo modellando ancora. Sì, sì, sì. Perché dico che si fa un culo così? Perché è quello che prende il lavoro di tutti verso la fine e, diciamo, unisce, deve rendere il tutto molto figo perché tutti hanno dedicato tanto tempo e ha una responsabilità incredibile. Lo mette insieme. Sì, lo mette tutto insieme. Per il film. Sì, c'era una volta una compositor che mi ha detto, che stava cercando di spiegare alla sua famiglia che cosa lei aveva fatto in questo, in un film che stavano guardando. E gli chiede, ma cosa è che hai fatto tu in questo film? E lei fa, vedi quella pioggia che cade sulla strada mentre la macchina passa? Ecco, quella non c'era. L'ho fatta io. E' tipo quella piccola, cioè, quel dettaglio che definisce lo shot, che magari se c'è non te ne accorgi, ma se non c'è te ne accorgi. Esattamente. E la gente ti chiede, cos'è che fai esattamente? Eh, io aggiungo lo spice, cioè, aggiungo l'effetto, insomma. C'era questo, mentre ti bevi la birra, c'era questo, sentivo questo podcast, stiamo dentro un podcast a parlare di un podcast, la rottura della Quarta Parisa. Che lui diceva, raccontava com'era lavorare come compositor generalist dentro i film. E lui ha lavorato per la Industrial Light & Magic, che è quella che produce tutti i film Marvel, eccetera. E praticamente diceva che c'erano alcuni momenti in cui erano liberi di creare, ad esempio, dei cartelloni pubblicitari, in cui dovevano creare delle marchi, dei marchi finti. E aggiungevano degli easter egg che sapevano solo loro. Erano i compositor, i compositor lo fanno un sacco, c'erano altri compositor che, allora io ho fatto una internship a Double Negative, che è un tirocino a Double Negative, che è durato due mesi. Sì, però ho avuto l'occasione di parlare con molti compositor lì e c'erano dei compositor che dicevano che hanno messo in una... adesso non mi ricordo esattamente il film, penso che fosse Jupiter, non vorrei dire una cavolata. Ma avevano detto che avevano messo dei... nelle esplosioni, c'era una scena in cui una donna cadeva in un gigantesco cratere di fuoco e tutte le scintille, tipo i pezzi di metallo che volavano, erano in realtà gatti. Come non lo fanno? Perché sono... È tutto il motion blur, in realtà. Ah, che figata. Cioè, che figata che sapere... Uno non lo sa, cioè, credo che queste sono cose che proprio davvero non vedi, perché, insomma, lo sfondo dello sfondo con duemila motion blur sopra, però loro lo sanno e mentre lo guardano dicono... Cioè, lì sono solo gatti. Una cosa che io ho già fatto, e lo sto dicendo adesso, è che in alcuni fotomontaggi che ho fatto io dentro l'occhio di alcune persone ho aggiunto dei messaggi, delle scritte. Stai cercando di fare un esperimento di controllo della mente. No, era tipo vaffanculo. Cose subliminali. No, era tipo un insulto. Tipo, il mio cliente è un cuore. Il mio cliente è un cuore. Pagatemi di più. Aiuto. No, però è figa questa cosa. Quando, sentendo appunto parlare di questo compositor, compositor, si dice compositor, che raccontava di questa cosa. È interessante perché ti danno libertà creativa di fare un cartone pubblicitario con, chi ne so, la Elgazi Enco, e tu aggiungi... Sì, 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 tanto poi sono cose che se non le notano, se proprio non ci punti il dito sopra non le nota nessuno, in realtà... Cioè, no, non voglio offenderti. No, no, no. È quella cosa che dicevo, che quando non ci sono lo vedi, ma quando ci sono non lo vedi, però sono molto importanti. Dilla, se ti capita, e conosci qualcuno che poi nei videogiochi dovrà aggiungere qualcosa di... Buttaci dentro Elgazi. Non posso, cioè... Allora, se facessi un videogioco mio, mai, sicuramente, però non posso farlo nell'ambito degli aziende. Non posso, non ho neanche controllo. Cioè, dovrei essere un invariament artist per fare questa cosa qua. Eh, se hai... conosci un invariament artist. Eh sì, ne conosco un po'. Chiederò se qualcuno... Chiederò se qualcuno ha intenzione di fare un easter... Ha fatto mai un easter egg nei progetti scorsi. Sicuramente qualcuno l'avrà fatto. Vabbè, non conosce nascuno il podcast di Elgazi, però... Magari più avanti ci sarà un... Magari inviterò qualcuno che fa proprio questo e... Cosa? Un invariament artist? Ah, ma... Cioè, te ne posso anche presentare... Allora, c'è... Ci sono un sacco tipo di server di Discord, di artisti italiani, tipo... Io e Arianna siamo su uno che si chiama Descostumati, che raccoglie un po' gli artisti... Cioè, si propone di raccogliere gli artisti che lavorano all'interno del 3D e... Noi siamo tutti italiani, non per discriminare... Ma... Credo per far... Cioè, è per far crescere, insomma, dialogare tra loro le persone della realtà italiana. Ci sono anche molte persone che frequentano il server per avere feedback e... Insomma, per essere, insomma, aiutati e guidati nel loro percorso formativo. Ci sono anche alcune persone che hanno, diciamo, non hanno una vera e propria formazione tradizionalmente universitaria, ma lì hanno trovato, insomma, dei mentori che li hanno poi aiutati, guidati nella direzione giusta e adesso lavorano professionalmente. Infatti, per fare questo lavoro non è... Non è necessario avere una laurea. Ok. Penso che se qualcuno facesse un tirocinio in un paio d'anni potrebbe fare esattamente quello che faccio io. Wow, un bel consiglio questo. Cioè, il punto è che non esistono tanti tirocini. Ok. E che lì l'ha pregato? No, la verità è che bisogna avere il tempo di costruire un buon portfolio. Non credo che al datore di lavoro interessi tantissimo se prima facevi il programmatore o lo scultore o anche il commesso, qualsiasi cosa che è anche irrilevante. Se hai avuto la possibilità di dimostrare che sei in grado di usare i software e hai una visione, e hai delle capacità artistiche e tecniche, se hai in grado di dimostrarlo, danno... Cioè, sono ben grati di darti un'opportunità perché sei una risorsa per loro. Sei interessato. Sì, sì, sì. Detto ciò, io non so come sono i corsi d'Italia, io stesso ho fatto un corso universitario per fare questo. Ok. E non mi sento neanche discreditare quello, dico solo che ci sono più modi di fare la stessa, di arrivare allo stesso punto. Sì, ora stiamo scoprendo tantissimi altri modi. Sì, sì, sì. Cioè, ragazzi, non c'è più la roba meccanica di fare il colloquio per questo, per quello... Cioè, dovete essere un po' intraprendenti, giusto? È quello che intendi tu. Non riesco a capire cosa intendi per roba meccanica di fare il colloquio. No, dico, la roba di prima, no? Io studio per questa roba qua e in specifico faccio il colloquio, cioè, per fare quella roba lì e basta. Cioè, non è importante tanto questo, se sei bravissimo, se hai studiato solo quello. Cioè, l'importante è che poi tu magari dia la disponibilità di imparare tanto altro. Sì, comunque... Sono uscito completamente fuori... Penso che comunque fare... il colloquio comunque sia importante, perché per quanto tu possa essere bravo, se dal colloquio si accorgono che sei uno, tipo, con cui non è piacevole avere a che fare, o non lo so, arrogante, o... credo che per loro sia anche importante sapere che tu sei una persona di cui si possono fidare. Ok. Riformulo la cosa, cioè, quando oggi, nei giorni d'oggi, guardano molto di più l'aspetto umano. Sì, le... Ok. Le... Soft skills. Soft skills. Non lo so, come dirle in italiano. Soft skills. Le... Capacità... Sottili. No, non lo so, direi... Vabbè. Non so come dirle. Soft skills. Prima o poi ci arriveremo. Le tue capacità. Diciamo, le tue capacità, la tua intelligenza emotiva, qualsiasi cosa voglia dire. Sì, sì, sì. Cioè, vogliono sapere che sei un bravo, cioè, un buon... Non essere un buono gradevole. No, non essere un buono gradevole, sembra quasi che dici che devi essere bello. Un buon membro di un team, ecco. Una persona che è in grado di lavorare in gruppo. Sì. Di dare e ricevere commenti costruttivi, di essere, insomma, proattivo, di avere voglia di imparare. Sì, convolto. Sì, sì, e di non essere, tipo, uno che molla il lavoro a metà senza dare nessuna spiegazione, sparisce per due settimane e poi ritorna dicendo, scusami, mi aveva... Mi ha mollato la tipa e allora sono andata in depressione. Beh, almeno, cioè, può succedere qualsiasi cosa, ma uno deve dirlo. Sì, 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 sì. Sì, è quello che intendevo per un buon essere umano. Sì. Cioè, di essere capace... Una persona decente, diciamo così. Molto, molto... Ma per quale azienda lavori, lo puoi dire? Per quale azienda lavoro? Sì. Vabbè, credo di dover fare il disclaimer. Tutto ciò che dico non ha nessuna rilevanza con l'opinione che i miei capi hanno delle... sulle cose, le mie opinioni sono le mie. Sì, mi chiede un disclaimer per dire dove lavori. No, non lo so. Allora, io lavoro in un'azienda che si chiama Frontier Development. Ok. Non è morto nessuno? No. Ok. Ma in realtà non lo so se... Cioè, chi lo sa? C'è scritto nel mio contratto chi è che l'ha letto davvero tutto qua. In lettere piccolini. Non puoi dire dove lavori. Che fanno principalmente giochi di simulation e RTS, real-time strategy. Wow. Quindi è molto simulazione della realtà. Cioè, giochi che simulano, che ne so, flight simulator. Allora, loro in particolare sono, diciamo, famosi per Jurassic World. Che dici poco. Vabbè, hanno fatto un gioco che è Park Management di Jurassic World. Wow. E ne hanno fatti due. L'uno e il due. E poi altri giochi come Planet Zoo, Planet Coaster. Ok. Adesso non posso... Non credo di poter dire su cosa stanno esattamente lavorando adesso, però questi sono i più famosi che hanno fatto. A noi la roba top secret ci piace. Ma faccio una piccola premessa per chi poi guarderà il video. Noi qui di fianco abbiamo uno skatepark e abbiamo un sacco di gente che gira dentro lo studio, dentro... Quindi lo diciamo perché se sentono dei rumori, dicono, ma l'audio non è preciso, non ce ne frega niente. Noi ci importano le persone. Vogliamo la gente qui intorno. E se sentite dei rumori è perché qualcuno qua in giro fa casino o va in skate. Ci sono delle lezioni di skateboard che stanno accadendo proprio dietro questa parete. Esatto. Hanno finito. Sì, in realtà non sento più niente, però è stato davvero carino guardarli. Mi sono fermata lì un po' a osservare prima di iniziare. I bambini sono davvero bravi, si divertono davvero tanto. C'erano anche le mamme che guardavano, sembrava quasi di stare... Quando io andavo a lezione di nuoto, mia mamma si fermava lì a guardare dal finestrino. Però questo è molto più interessante, sembra molto più figa come attività. E skate sì? Sì. Io lo trovo... Cioè un bambino che fa skate vuol dire che è il più figo della classe. Sì, è vero. Cioè, tra l'altro forse è l'età giusta in cui imparare quando non hai più tipo la percezione che cadendo ti fai male, oppure il tuo baricentro è più basso e hai più equilibrio, non lo so come funziona. Tanto sembrano fatti di gomma, cavolo. Cioè si rialzano senza essere fatti niente. Sì. Ma senti, tu non vivi a Milano? No, io vivo a Cambridge. Wow, Cambridge. Sì. Vabbè, era inevitabile. Non esiste Cambridge in italiano. Non credo esista. Perché ho studiato in Inghilterra in un posto che si chiama Bournemouth. Bournemouth. Ancora non so pronunciarlo il nome di sto posto. Dove c'era il National Center for Computer Animation. Faccio che fa parte di Bournemouth University. E all'epoca scelsi quel posto perché era il secondo in Europa nella classifica delle scuole per imparare a fare computer grafica. Sì. E avrei preferito, ripensandoci, andare in Francia, ma tutte le scuole francesi richiedevano una competenza di francese che io tuttora non possiedo. Ci spalli i francesi. Eh, lo so. Non gli facevano i corsi in inglese, sono troppo più bravi loro. Tra l'altro ci sono delle scuole in Francia tipo la ESMA, che è a Montpellier, di cui io conosco alcune persone che si sono laureate lì. E certe cose che fanno veramente, cioè mi fanno venire voglia di ammazzarmi perché sono bravissimi già uscendo. I loro progetti di fine anno sono una cosa veramente invidiabile. E, cioè, direi che rivaleggiano anche con alcuni episodi di animazioni brevi che vediamo su Netflix, devo dire. E, cioè, veramente quando io mi sono laureata e poi altra gente incontro per essere laureata lo stesso anno da ESMA, io veramente volevo morire dentro. Vabbè, tutto è bene, quel che finisce bene si continua sempre a migliorare in ogni caso, solo che loro erano già molto bravi anche. E, comunque, sono andata lì e dopo tre anni mi sono laureata e subito ho trovato lavoro in questo posto dove lavoro adesso, che è Frontier. Frontier, ok. Hai fatto dei progetti, non dico famosi, ma conosciuti dal pubblico in generale? Io personalmente ho lavorato su Planet Zoo. Planet Zoo, io lo conosco. È un gioco per la console? È un gioco sia per console che per PC. Ok. Adesso non mi ricordo per quali console sia esattamente. però sono stata assunta quando stavano finendo e ho avuto l'occasione di lavorare su quello e poi mi hanno spostato sul numero due di Jurassic World Evolution. Wow. E adesso so lavoro su un altro progetto su cui sono tuttora che è, penso, stato annunciato. Sì, è un gioco di Formula 1, F1 Management, Formula 1. Formula 1. Essendo dentro il mercato, come è a lavorare per i videogiochi? È un lavoro che dà tantissime soddisfazioni ad esattamente quello che volevo fare, ma è alla fine un lavoro come un altro. Non è vero che è un lavoro come un altro, però, come diceva Pietro l'altra volta, si lavora per sopravvivere e non sempre, non tutti i giorni, tutto il giorno fai cose di cui sei tipo stracontento. Certo, certe volte devi anche, insomma, fare, diciamo... Quello che non ti piace, la merda. No, non la merda, perché mi fai dire cose che non ho detto. Devi fare delle cose che sono un po' più, diciamo, organizzative. A girare un ritorno. Cioè, devi mandare email ogni tanto, cioè... Tu vorresti fare più rigging, invece ogni tanto devi mandare qualche mail. Cioè, nel mulino che vorrei io farai solo R&D. No. Che è il research and development. Cioè, tipo, sviluppare nuove soluzioni. Ti dico. Però, talvolta, è pressante, la produzione è pressante, quindi devi fare cose che sai già fare, le sai fare veloci, talvolta le devi fare ripetitivamente. E quella è la parte un po' meno interessante. La parte più interessante, dal mio punto di vista, è quella di risolvere problemi e, insomma, sviluppare nuove soluzioni. Wow. Tu sei una persona molto interessante, lo sai? Grazie. Tu sei una persona molto interessante perché questo non è da tutti, voler cercare soluzioni per problemi davvero grossi. Perché i tuoi colleghi, immagino, siano delle persone super che hanno studiato, eccetera. E se mettono te a trovare un problema vuol dire che... Allora, io non... cioè, problemi davvero grossi. Non stiamo risolvendo la fame nel mondo, ecco. Stiamo, diciamo, rendendo la vita più facile alle persone per lavorare, insomma, per fare in modo che la produzione sia più piacevole per tutti, ecco. Smetti, ma questo è difficile. È difficile, sì, è vero, è difficile. Comunque, devo dire che non è sempre stato così. Io, prima di fare questo percorso del 3D, facevo... ho fatto la triennale di design della comunicazione al Politecnico. Ok. In Milano, ed è così che poi conoscevo Pietro. In realtà io Pietro lo conoscevo perché andavamo al liceo insieme, ma abbiamo fatto la stessa, la stessa, insomma, triennale. Triennale. E lì ho sviluppato un complesso di inferiorità nei confronti degli ingegneri. Oh, madonna. Cazzo, perché gli ingegneri sono dei testoni incredibili. Sì, e comunque sono anche, insomma, specialmente nel corso finale, nel laboratorio di sintesi, abbiamo dovuto sviluppare delle installazioni con Arduino, di cui io personalmente non mi sono occupato del lato di sviluppo, però la cosa mi interessava molto. E comunque è stata la prima interazione che ho avuto, insomma, con la tecnologia e la tecnologia che produce, insomma, contenuti visivi. Comunque si può fare arte anche attraverso, insomma, smanettando con le cose un po' più tecniche, insomma. E comunque io lì per lì mi sono detta, beh, io in realtà voglio fare animazione 3D. C'era un corso di animazione 3D che completamente non mi avrebbe, insomma, dato nessuna vera possibilità di presentare qualcosa in una showreel, insomma, in un portfolio. Anche quella è una parola inglese. E allora ho deciso di fare una nuova triennale. Sì, sì. Attraverso, insomma, tutte le fasi della produzione e modellazione, rigging, animazione, look development, che è come i materiali vengono, insomma, renderizzati, compositing e altre cose. E che adesso non mi ricordo, texturing, ci sono tante altre cose che uno potrebbe. E io arrivando a rigging mi sono resa conto che mi interessava molto di più, mi sono resa conto che tutto questo processo, questa cosa che il 3D ha fatto al produrre animazione, che ha scomposto tutto, ha reso la cosa molto lunga e molto, per certi versi, noiosa e ripetitiva. E in particolare il rigging, se lo fai a mano, una volta che hai capito la logica, è molto ripetitiva come cosa. E quello che poi, facendo il salto di qualità, in realtà uno impara a fare in modo che il computer faccia il 90% del lavoro per te. Figata! E però per farlo devi imparare a scrivere codice. E in particolare il software che uso io, che si chiama Maya, ha come linguaggio di scripting integrato Python. E quindi ho imparato, ho capito che rendere, insomma, il processo più facile mi interessava molto di più, mi dava molta più soddisfazione risolvere i problemi. I problemi che avevi. Ed è, cioè, quando tu produci qualcosa di artistico, non sai mai se è finito, se può sempre essere meglio. Invece una cosa, quando funziona, funziona e basta. Sai quando è finito, sai che funziona. Ed è fatto, insomma. Ed è, e quindi mi sono resa conto che, siccome io sono una persona che in generale vede, si concentra un sacco sulle negatività delle cose, vede un sacco di difetti nelle cose, questa è una cosa che un po' come artista ti limita perché non finisci mai. Infatti io, la difficoltà che avevo quando disegnavo, facevo, insomma... Non ti limita, ti... Eh, invece sì, perché non finisci mai, cioè non ti sei mai contento di quello che hai finito. E invece che limitarsi uno continua a devolvere, no? No, perché io parlo del singolo progetto finale. Non riesci mai a finirlo perché non ti piace mai, non vuoi mai farlo vedere. Invece questa cosa qui, il vedere, insomma, i difetti o le possibilità di miglioramento di una cosa, a un certo punto si esaurisce nel fatto che poi la cosa funziona. Certo. E quindi mi sono... mi trovavo un po' meglio, cioè penso che questa cosa mi aiuti di più in questa fase della produzione. Perché quando una cosa funziona, funziona e basta. Sì. È finito, cioè questo è l'obiettivo, questo codice fa raggiungere a me questo obiettivo e funziona. E quindi è finito. Se ti vieni... puoi sempre migliorarlo, ma sono migliorie che vanno ad aggiungersi, insomma. E perché il risultato comunque finale, la base, cioè... Cioè, in effetti risolvere i problemi tecnici della produzione, in particolare del rigging e dell'animazione, mi dava molta più soddisfazione del, tipo, pitturare texture o stare due ore all'aspettare che finisse un rendering quadratino per quadratino per quadratino per quadratino. Quella veramente appena mi sono... appena ho raggiunto il loop development ho capito che quello non lo volevo fare. Ok. Cioè, se non hai una... adesso se non hai una RTX, tipo, o tre RTX montate tutte sullo stesso computer, stare lì a guardare le cose e renderizzare quadratino per quadratino per quadratino, a me viene voglia di uccidermi, però ci sono alcune persone a cui magari piace, oppure gli piace fare le pause lunghe, non lo so. Non è, diciamo, che non era la cosa per me. E lì, tipo, è stato lo scoglio su cui mi sono impiantata. Ho detto, beh, torniamo un po' indietro e vediamo cosa ci piace di più delle cose che c'erano da fare prima. E quindi così... Sì, sì, sì. Adesso sono più orientata su cose, diciamo, tecniche. Quindi non hai preso l'idea di diventare ingegnere? No, perché... Che sarebbe stata interessante per te, secondo me, risolvere tanti problemi. Beh, io comunque volevo lavorare nell'ambito dell'animazione 3D perché è quello che ho sempre in realtà voluto fare fin da piccola. dovevo solo capire come inserirmi in modo da, diciamo, valorizzare quello che... Cioè, diciamo, le mie caratteristiche come persona, penso. Però tu sei un ingegnere. No, non sono un ingegnere. Pensi come un ingegnere? Non lo so se potrei dire... Non voglio, tipo, che agli ingegneri si... Cioè, ci sia una rivolta dei programmatori e degli ingegneri. Alla fine è così, alla fine è così. Cioè, risolvere i problemi è essere un po' un ingegnere. Devi scoprire nuovi metodi o creare nuovi modi per risolvere dei problemi. Quindi creare problemi e poi risolverli. Per risolvere i problemi. Creare problemi per risolvere i problemi. C'è un libro molto carino, di cui non mi ricordo l'autore, ma mi ricordo il titolo, che si chiama The History of Useful Things, che parla di come... Non l'hanno mai tradotto in italiano, quindi non posso... Io scherzo. Non prendermi seriamente. Ed è la storia di oggetti comuni e come hanno assunto la forma che hanno adesso. Per dire, inizia con la forchetta, per dire. Non è che a un certo punto uno si è detto, ah, cacchio, mi piacerebbe proprio avere una forchetta, aveva già la forchetta in mente come era. Hanno iniziato con una specie di, insomma, di cosa con cui infilzare le cose, tipo uno stecco. Poi lo stecco ha avuto due punte. Poi si sono accorti che cavolo, però le due punte non offrono abbastanza stabilità. Se ne aggiungessimo una terza e una quarta, però una quarta non è che aggiunge così tanto. Torniamo a una terza. E questa cosa si è verificata in uno spanno di migliaia di anni, no? E comunque, morale della favola, questo libro, il caso che cerca di portare avanti è che l'innovazione non nasce da, insomma, dal bisogno. Perché uno non è che ha pensato, ho proprio bisogno di una porchetta con tre punte. Nasce dalla frustrazione. L'innovazione nasce dalla frustrazione, è ottimo. Dalla frustrazione che di non fare una cosa in maniera abbastanza comoda, che ne so. Questo aveva uno stecco e ho detto, ah, però, cavolo, beh, lo stecco ce la faccio a infilzare le cose. Però, in effetti, non è così stabile, potrebbe essere meglio. E quindi è un processo, diciamo, additivo. Cioè, pezzetto per pezzetto, una cosa finisce da avere la forma, cioè, diciamo, che è empiricamente quella che funziona meglio. Io sentivo dentro me la frustrazione di usare i programmi 3D. Ok. E quindi, cioè, non volevo essere una che premeva solo bottoni, volevo anche essere qualcuno che potesse contribuire al processo, in qualche modo. Volevo, se pensavo che qualcosa avrebbe potuto funzionare meglio, volevo in qualche modo contribuire, o comunque rendere la mia vita più facile. Quindi è stata la frustrazione di questo processo del 3D, che ha reso la produzione delle immagini così macchinoso, se ci pensi alla fine, rispetto a disegni una cosa, e quella cosa è il frame che io ho. E lo disegnerò tante, tante, tante volte, però sarà sempre la stessa, diciamo, sarà un processo più fluido, no? Invece l'ha reso così macchinoso che, cioè, è bello se è più facile. Anche tu, non lo so, penso che tu usi un sacco di script, userai degli script per After Effects. Ne usi pochissimi. Ne usi pochissimi? Ne trovi che ci sia qualcosa che del software potrebbe essere migliorato, se ci fosse una funzione in più? Quella cosa che veramente, non so, non hai voglia di fare questa cosa una seconda volta, quindi vorrei una cosa che me la specchi, perché devo fare sia la parte destra che la parte sinistra. Cioè, mica siamo nati per soffrire fare sia la parte destra che la parte sinistra. Ti dico di più, ti dico di più, noi siamo, il nostro cervello è portato a risparmiare l'energia, quindi il fare la parte destra e la parte sinistra, ah, che palle, quindi devo trovare un plug-in che mi risolva questo problema. Non vado a trattare la parte di script, ma prendo direttamente il plug-in, quello sì. Però ti devo dire che mi piace mettere mano all'animazione, cioè mi piace che l'animazione abbia un tocco artistico, cioè i keyframe. Dove è possibile, se il lavoro è un po' più macchinoso, allora uso tanti plug-in. Però dove è possibile, vorrei che, che ne so, animino la piantina, vorrei che la piantina andasse più in qua, perché, e non che il plug-in gestisce tutto, gestisce, gestisse, gestisse, gestisca. Gessisca. Vorrei, non so se lo sapete, ma io non sono italiano, però... Non vorrei che, no, non vorrei che il plug-in gestisse tutta l'animazione. Stavo dicendo quello, perché mi hai interrotto? Penso che si possa dire anche gestisca. Ho dato la colpa a qualcun altro. No, ha capito, ho scaricato il mio sbaglio su di te. Ok. Mi sono un po' confusa anche io con l'italiano, forse. Darò la colpa al fatto che vivo in Inghilterra. Diamo la colpa a tutto. Allora, però, è quello che intendo io, cioè, non lascio tanto in mano al plug-in, però ci sono tante volte che palle questa roba qua la faccio col plug-in. Sì, 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 mica siamo nati per soffrire, no? Sì, mica siamo nati per soffrire. Però, per dire, se la piantina, diciamo che la piantina, vuoi che si muova un po' più in qua, un po' più in là, vuoi che, diciamo che il movimento è sinusoidale, di base, che magari è un po' tipo artificiale, perché è matematicamente definito, però tu, creando questa animazione da questa base, puoi comunque partire di, vabbè, adesso ci introduco l'irregolarità che le dà un po' vita. Però hai già, diciamo, smaltito il 70% del lavoro con questa cosa qua, così che ti puoi davvero occupare dei dettagli, no? Ecco quando dici che rendi la vita più facile agli animatori, è proprio questo. Cioè, ad esempio, ti faccio un esempio, il vestito deve ballare quando si muove. Sì, sì, sì. L'animatore non deve far ballare il vestito, deve far muovere il personaggio. Sì. Quindi sei tu che fai il rig, in modo che se lui muove il braccio, si muove anche il vestito. È giusto? Sì, sì, ci sono alcune cose che possono essere create nel rig, perché questa cosa avvenga automaticamente, o semi-automaticamente, o diciamo che avviene automaticamente, poi viene, insomma, trasformato in un frame by frame, e poi lì puoi andare manualmente a spostare, diciamo se c'è stata una mini intersezione, insomma, a correggere le cose e occuparti dei dettagli. Però la base di quelle cose noiose che nessuno vuole fare, perché cavolo, cioè, abbiamo altro da fare di meglio, occuparci di come in effetti l'immagine sembra, e avere un po' più la direzione artistica, quelle robe noi non le vogliamo fare, vogliamo occuparci della direzione artistica e dei dettagli, e davvero ottenere quello che abbiamo in mente, no? Sì. E vogliamo sveltire il processo in modo che poi possiamo concentrarci su ciò che davvero conta. L'idea. E almeno dal punto di vista dell'animazione, perché poi ci sono tante altre cose che possono essere automatizzate dal punto di vista dei materiali. Ah, davvero? Beh, sì, cioè, ci sono programmi solo per la creazione di materiali, come Substance Designer, che funziona a nodi, insomma. Adesso io non sono una material artist, né una technical artist specializzata in materiali, però ci sono tanti altri modi e programmi che sono stati inventati apposta per sveltire del processo di creazione delle immagini. Adesso si usa... L'AI ha iniziato a essere integrata in questo processo e è una cosa molto eccitante, a dire la verità, dal punto di vista tecnico. Guarda, davvero tanti complimenti, perché secondo me gli animatori ti lodano. Perché, cioè, davvero io penso, io penso, io voglio animare un personaggio che è un orco e lui ha un vestito, io voglio fargli l'animazione in modo che esprima tutto il carattere del personaggio, eccetera, ma non voglio preoccuparmi della base del vestito che deve ondulare, oscillare, voglio preoccuparmi di farlo muovere nella maniera giusta. Quindi tu potresti chiedere anche dei soldi per dire, oh, io ti posso facilitare la vita oppure metterla in difficoltà. Quindi state... No, dai, cioè, questi ricatti morali. Fai una cassa due. Vorrei precisare che ci sono anche... Questa cosa può avvenire, diciamo, questa cosa che descrivi tu del tessuto, può avvenire nel rig o può essere completamente, diciamo, tolta dalle mani dagli animatori e assegnata al dipartimento di Character Effects che ti simulerà la più bella maglietta vestito con Houdini o con altri programmi di simulazione per tessuti o per capelli. Dipende da... Per dire, per i videogiochi questa cosa non succede o semmai succede in engine. Sempre per quei motivi che dicevo di costrizioni, perché questa cosa, farla avvenire in realtà, è un po' costoso dal punto di vista del computazionale. Quindi si preferisce, insomma, avere l'animazione già becata, salvata all'interno dello scheletro. In genere si preferisce questo. Adesso, con mano a mano che i computer diventano più potenti, sicuramente magari potremo introdurre elementi di simulazione un po' più pesanti anche nei videogiochi. Alcuni, per alcuni cosi ci sono già. Ho già visto qualcosa. A proposito, è Unreal 5? Sì, è uscito penso poche settimane fa. Tu lo usi? Io personalmente no. Ok, però figo. Non l'ho ancora mai aperto, se nemmeno c'è una città. Però oggi ho visto qualcosina che praticamente funziona, il render funziona in real time. Cioè, tu puoi anche fare reading, giusto? Non so che non l'hai mai aperto, però non l'hai mai visto? No, c'è anche in Unreal. Negli Unreal prima c'era un control rig. Ok. E diciamo che può fino a un certo punto, credo, essere integrato nella pipeline di rig. Però comunque, quello che uno vorrebbe davvero fare è creare il rig nel programma in cui gli animatori vogliono animare. Esatto. E se gli animatori non vogliono animare in Unreal, non c'è nessuno. Ah, ok. Tu puoi creare un sistema di rigging in Unreal. Non sono... Allora, non so se lo puoi esportare per poterlo usare anche in altri programmi in cui gli animatori magari preferiscono animare. Non sono abbastanza esperta in questo, non vorrei dire delle cose non vere. Però figo, tu lavori quindi dentro Maya, che è dove gli animatori andranno ad animare. Sì. Ok, figo. Sì. Fighissimo. Ci sono altri programmi dove... Sì, ci sono... C'è, insomma, c'è TDS Max, c'è Blender, c'è una comunità di utilizzatori di Blender molto, insomma, attaccati. Ci sono gli Blender Evangelist. Eh, madonna. Beh, hanno ragione nel senso che Blender è open source e gratuito, quindi se sei uno studio più piccolo che non si può permettere licenze, Blender è sicuramente un'ottima scelta. Io non lo so usare personalmente. Non l'ho mai... Uso principalmente Maya. Uso principalmente Maya, sì. E poi? Poi appunto Unreal Engine... Che usi tu, eh? Che usi tu? Uso un po' di Motion Builder per il retargeting. Cos'è? È un software per il retargeting. Cioè... Cos'è il retargeting? Il retargeting è la... Diciamo il tentativo di disfarsi degli animatori. Ok. È quel... Cioè io posso fare una puntata se mi venite dicendo cos'è questo? Perché non so niente. Hai ragione, scusa. Il retargeting è... Adesso lo dirò un po' tipo avanti sana cocco banana. Sostituisce l'animazione. È quando quelle persone si mettono in quelle tute con tanti puntini sopra. Ah, ok. E attraverso i loro movimenti diciamo che li registrano... Motion capture. Motion capture, esatto. Hai ragione, ho usato la parola sbagliata in realtà. Motion capture. Ah, è motion capture. Sì. Stavo pensando a qualcos'altro. Il retargeting è il processo del trasferire un'animazione da un riga all'altro. Ah, ok. Che comunque è un modo di rendere più semplice la vita a voi. Nel senso che non devi fare l'animazione due volte su due personaggi diversi. Esattamente. Hai ragione, ho avuto un lapsus. No, ci sta, ci sta. Stavi pensando all'altro. No, ed effettivamente è quasi la stessa cosa quindi puoi... È giusto, ti giustifico lo sbaglio. Sì, diciamo di sì. Tu no, tu non ti perdono. No, io no. Sono molto, molto critica nei confronti di me stessa. E il lavoro che fai è giusto. Sì. Come ti ho detto vedo un sacco difetti nelle cose. Una cosa potrebbe sempre essere meglio. No, però è una cosa anche naturale. È una cosa anche naturale perché alla fine tu devi dare in mano il lavoro a qualcun altro perfetto, quindi il più possibile. Sì, diciamo che ci sono un sacco... È anche un lavoro che... in cui hai un sacco di suggerimenti da parte dell'animatore perché ovviamente diciamo che è un processo molto iterativo nel senso che tu presenti una cosa e poi te la rimando indietro molto spesso dicendo ah ma mi è venuto in mente che ci potrebbe essere questo e questo e questo e questo oppure questo funziona un po' male non è che potresti darci un'occhiata quindi c'è un sacco di dialogo ed è una figura abbastanza che è in una posizione abbastanza vantaggiosa per rendersi conto di un po' tutto il processo perché io parlo spesso con gli animatori ma parlo spesso anche con i modellatori devo parlare con loro per spiegargli di cosa io ho bisogno di cosa gli animatori hanno bisogno quando poi mi occupo di mettere il personaggio dentro l'engine parlo anche con le persone che creano i materiali che si occupano del rendering parlo con i programmatori perché ho bisogno che loro mi assistano dal loro lato per implementare delle cose di cui gli animatori hanno bisogno quindi è una posizione abbastanza interessante in cui lavorare perché si ha un po' una visione di insieme l'unica cosa l'unica dipartimento con cui non parlo molto sono quelli di environment che sono quelli che poi appunto creano ecco no no lei è lighting e anche con il lighting non parlo tantissimo tutti quelli di cui si tutti quelli di cui si occupa che si occupano del personaggio hanno un po' più a che fare con me invece tipo l'ambiente diciamo il che ne so i palazzi o le strade o le diciamo tutto ciò che è molto lontano e non si muove con quelle persone non parlo molto ok lightning non ha a che fare con l'environment cioè non è mettere luce si parla di luci giusto? vuoi vuoi detto così presentiamo Arianna una futura ospite una futura ospite del podcast possiamo dirlo Arianna? possiamo dirlo vediamo come va questa fase e poi ok capiamo sì lighting parla più con l'environment è praticamente il si occupano di posizionare tutto ciò che è o emette luce più o meno figo quindi sì è un reparto che ha la sua branca di technical art che di solito sono i render artist o render technical art e si interfaccia più con chi fa i materiali chi fa i character anche o l'environment ok però è una branca un po' più artistica cioè è a metà fra l'artistico e il tecnico figo fighissimo tra l'altro sto riflettendo su quello che mi stai dicendo ma sto anche pensando che potremmo introdurre questa cosa che ad un certo punto gli ospiti portano qualcuno e la gente invade inizia è figa questa cosa mi piace mi piace no ma è davvero interessante perché tu sei quella è come quasi come il direttore della fotografia si può dire vagamente diciamo il il lighting ti porto il microfono più vicino diciamo che il lighting artist comunque lavora cioè è un un'astrutta piramidale quindi ognuno di noi ha un lead ogni branca un lead che sarebbe il capo quindi lui sarebbe più il capo della fotografia noi cioè diciamo quelli a livello base sono più sì quelli che posizionano la luce a metà fra artisti voi muovete la luce in scena sì muoviamo la luce in scena oppure la semplifico troppo perché cioè la mia testa va così sto cercando di capire come spiegarlo però sì principalmente sì posizioniamo vai vai fai così penso sia una di quelle cose come i compositor appena ti accorgi cioè quando la luce è bella e tutto funziona in scena diciamo che non lo noti però appena appena il lighting è brutto tutti lo vedono ah ecco il modo che uso io per spiegarlo è provate a farmi un selfie con la luce sbagliata poi lo fanno tutti esatto poi si capisce già ne fate uno serio e uno con la luce sbagliata e poi tutti capiscono ah ecco cosa serve ecco esatto quello è ecco cosa serve allora io non ti farei dire altro perché ti voglio su quella sedia lì però puoi stare tranquillamente se vuoi intervenire tranquillamente sei ti lascio tu vivi a Milano giusto sì io sì ok perfetto io sono super interessato a conoscere il tuo lavoro di lightning quindi conoscerò ognuno dei tuoi collaboratori per l'incendere da Cambridge è un po' un casino però tu conosci tante persone che lavorano via Milano per Milestone o per Ubisoft non so perché io ho iniziato in realtà da un anno a lavorare per questo studio a Cambridge fino adesso lavoravo a Milano ok proprio in uno studio a Milano quindi sì ho tutti i contatti degli askolleghi quindi se vuoi facciamo questo stream di persone ci sta ci sta ci sta avrei sicuramente una persona per base della pipeline del processo cioè se ti interessano i videogiochi li mettiamo tutti uno per uno da quando iniziamo dallo storyboard fino al video non credo che esista uno storyboard per i videogiochi no esiste la storia e poi vi dovete arrangiare ci vorrebbe ci vorrebbe un game director perché in realtà i game director non parlano a noi minion dipende dal gioco perché magari con i materiali non serve però se fai un gioco con una storia più basata su un film tipo Red Dead magari hanno sicuramente hanno i concept artist che fanno Fabio ma se noi lasciamo il microfono in mezzo che dici riesci a sentire un po' più in qua in mezzo facciamo così così sta in mezzo e vediamo se vi sentiamo forse è un po' troppo davanti è un po' improvvisato è un po' improvvisato è un po' il problema del fuoco credo anche l'altra volta c'era c'era questo problema della macchina del fuoco devo sistemare le cose in modo che sia così come il format abbastanza libero da robe tecniche uno può entrare uscire l'autofocus sì no molto figo molto figa la roba del lightning non sapevo che per produrre un videogioco ci volesse tutta sta gente sta gente che produce ce ne vuole anche di più di quella che ti aspetti adesso cazzo ci sono anche tanti diciamo programmatori anche che si specializzano in cose diverse perché anche io penso tipo a Umbrello sai il programmatore cioè il gameplay il render il programmer il programmatore che si occupa di animazione specifica in game cioè te l'ho detto il 3D ha reso il processo di creare immagini che si muovono così frammentato che ogni tanto è un po' frustrante perché appunto come dicevano c'è questo senso di autorialità che magari tu hai talvolta sarebbe bello lavorare a una cosa solo tu però dovresti fare così tante cose avere così tante capacità così diverse che ci sono le persone che noi chiamiamo i generalist ok questo lo conosco i 3D generalist e sono un tutto fare sì che qualcuno potrebbe dire beh si fanno un po' di tutto ma lo fanno male non è sempre vero ci sono i bravi generalist sono estremamente difficili da trovare e appena io li vedo diciamo che tipo mi inchino perché è davvero difficile saper fare tutto bene ci sono anche persone che si specializzano diciamo in aree del generalist non credo che esista magari ci sono le persone che fanno i modelli e fanno anche le texture fanno anche il rendering però magari fanno magari gli animatori ma non sanno rigare cioè manca sempre una cosa manca sempre sempre tra l'altro questo ragazzo Andrea Sperges vatti vedere la puntata molto interessante sta sviluppando un videogioco con altri amici e lui è un po' per quel videogioco è un generalist cioè lui anima è un bravo animatore con la pixel art e fa un po' tutto quello che diciamo riguarda la parte di animazione poi i ragazzi che programmano con lui però deve pensare lui alle mosse agli attacchi però è tutto immagino quei ragazzi che hanno sviluppato dei giochi in 8 bit negli anni 80 e facevano tutto però il livello di complicità si è altato tanto brava cioè più diciamo l'immagine diventa complessa e più persone ti servono perché magari iniziano solo programmatori e avevano diciamo delle capacità delle macchine delle capacità di rendering più basse quindi anche insomma le aspettative le aspettative ti sposto così così meglio le aspettative sulla qualità dell'immagine erano inferiori cioè con l'aumento della complessità anche oggi qualcuno sarebbe in grado di fare un gioco da solo e anche un gioco giochi validi e giochi divertenti però non sarebbe un grado una persona non può fare un tripla e va neanche un doppia secondo me però tripla e doppia in generale si riferisce alla quantità di soldi spesi per produrlo adesso non so esattamente quale sia la cifra no penso sia variabe fumosa la definizione diciamo che credo sia una definizione che si riferisce alla qualità del al livello di realismo in realtà secondo me allora quello che avevo intuito io è che un tripla è quando tu sei finanziato da esterni e quindi si presuppone tu abbia una quantità di soldi maggiore a disposizione e quindi la qualità è più alta e doppia è quando sei autofinanziato comunque quasi indie però è un po' fumoso cioè a seconda ti lo chiedi ti danno una perfetta motivazione per una o l'altra ipotesi e invece il god che è game of the year si dice così god si dice così non lo so game of the year no perché l'addino non va troppo comunque il game of the year tu sai qual è? io non so quale sia quello di quest'anno quello di quest'anno non lo so però so che c'è stato il The Last of Us che era non so se era l'anno scorso quello era l'anno scorso quest'anno non c'era dicembre no l'anno scorso era God of War non l'hanno ancora fatto God of War non l'hanno ancora rilasciato sì no no ah Assassin's Creed no no God of War sì ma non era l'anno scorso cioè era non lo so hanno lasciato il trailer ma non è uscito voglio sapere taglia questa cosa sennò sembriamo ignoranti il due non è uscito l'uno è uscito l'uno è uscito io non taglio assolutamente niente è da camp non so di cosa stai riferendo all'anno scorso l'anno scorso vi ho messo in difficoltà l'ho fatta apposto taglio pubblicità c'è più beh io l'ho giocato due anni fa quindi non può essere uscito l'anno scorso però ad esempio qual è il gioco che ti piacerebbe tu dici ti piacerebbe lavorare sì al top level in realtà a me piacciono tantissimo i giochi 2D quindi esula un po' dalla dove non posso però se ti devo dire la verità adesso ci sono anche i giochi 2D ah sì perché appunto è la comodità di poter riutilizzare il personaggio non lo devi disegnare ogni frame devi semplicemente stabilire la sua posizione attraverso dei controlli cioè il concetto dell'animazione stop motion mi ha portato in insomma in un software sì e ho notato che ci sono cioè ci sono molte aziende adesso che fanno molte però alcune stanno facendo ogni tanto guardo gli annunci c'è stato rigger e specificano deve sapere usare Toon Boom Harmony che vuol dire rigger i miei amici usano Toon Boom per questo gioco che stanno facendo no lui usa photoshop perché fa pixel art è più comodo photoshop però Toon Boom è molto richiesto stavo parlando di quello con cui hai fatto il podcast era sempre lui sì sì Andrea pensavo fossero due persone diverse no 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 perché è venuto in due puntate diverse magari ma figo figo ma una cosa di qui abbiamo detto nell'altra puntata uscendo completamente dall'area del lavoro e andando un po' più sul personale parlavamo di femministi ah ti è rimasto sì ma ti ricordi che volevamo parlare un po' di ma non sono tanta voglia di parlarne va benissimo ma benissimo nel senso cos'è che ti aveva colpito no tu avevi detto che c'erano dei attivisti ah i men's right actors i men's right actors allora no se non ti va torniamo ai videogiorgi no non volevo fare l'avvocato del diavolo perché credo che la differenza sia che le femministe si battono per un problema sistemico mentre i men's right activists diciamo che hanno dei punti validi su alcune cose che diciamo li discriminano solo perché sono uomini stavo leggendo tipo che in America c'era stata questa insomma ricerca che dimostrava che gli uomini vengono agli uomini viene sproporzionatamente assegnata assegnate pene più pesanti per reati simili commessi dalle donne cioè aggiustando statisticamente per quantità di reati commessi da uomini e da donne in generale reati più insomma i stessi reati venivano puliti più severamente negli uomini che nelle donne e quindi ci sono alcuni men's right activists che facevano notare questo però sono cose un po' più specifiche e meno sistemiche secondo me quindi volevo dire che hanno dei punti validi ma non hanno non credo che il problema gli uomini vengono discriminati sistematicamente io direi nel mondo nel mondo occidentale insomma europeo o americano io direi che è proprio una roba fuori luogo cioè nel momento in cui stiamo parlando di violenza contro le donne che sono aumentate eccetera di uomini che sono attivisti per i diritti aspetta un attimo risolviamo prima un'altra roba e poi è quello che intendo io però è molto più grave il fatto che ci sia un guerra in Ucraina e le donne vengono stuprate ah sì poi lo stupro cioè capisci è sempre stata un'arma di guerra capisci è un modo per diciamo deprimere la popolazione non deprimere però insomma scoraggiare la popolazione colpirla proprio dove fa più male esatto che poi che poi ho visto l'ultima notizia di un tizio che ha preso uno ucraino e gli ha praticamente con il coso di ferro caldo gli ha fatto una zetta sulle palle cioè ah ma si l'hai sentito questo dolore io l'ho sentito quando l'ho visto e quindi cioè l'essere umano è infame sia che sei un attivista dei diritti degli uomini o delle donne ma sta proprio impressa questa cosa ma molto impressa molto impressa non quella della zetta intendevo quella dei men's right quella sicuramente anche la cosa anche quella cosa in effetti si intendevo quella sento io dolore per te no però è stato molto impressa perché aspetta un attimo cioè non è non è la priorità la priorità è risolvere un problema ancora più grosso però ognuno ognuno riesce cioè io mi rendo conto che ognuno riesce è più sensibile ai problemi che riguardano direttamente se stesso è un po' una cosa che abbiamo tutti in realtà sì ma in questo caso ho un po' di empatia cioè se sono un uomo mi preoccupo di più dei problemi delle donne in questo momento perché è normale o di chi soffre oppure no magari domani entro a far parte di men's right action men's right action non riesco a dirlo così veloce come lo dici tu vabbè io ho un po' più di pratica men's right action diciamolo ancora un po' così facciamo ancora un po' di pubblicità a queste persone che secondo te non la meritano troppo questo momento no vabbè in questo momento ci sono sicuramente cose più urgenti di più occuparsi però ci sono anche cose cioè da te da parlare ci sono anche cose limitate che possiamo fare penso per alcuni punti di vista sì tu adesso tornerai in Inghilterra sì sì tornerai in Inghilterra bene sì e poi vediamo insomma come sei triste beh qui ho gli amici la mia famiglia mi trovo bene alla fine mi trovo bene anche in Inghilterra la verità però in realtà io non ho mai lavorato in Italia e quindi sono un po' lavorare in Italia mi imprime un terrore sacco non so cioè ho paura di lavorare in Italia ho paura lavorare da c'era stata a un certo punto la possibilità per me di lavorare freelance dall'Italia ma ho il terrore di avere a che fare col sistema delle tasse della partita IVA tu hai un microfono e io ti lascio ti lascio la libertà tipo un terrore sacro perché sento solo storie dell'orrore anch'io sono freelance e quindi cioè io lavoro da dipendente c'è quindi delle tasse si occupa insomma ma anche loro sudano forse no forse il tuo capo sta bene i miei capi stanno bene i miei capi stanno bene è un'azienda abbastanza grande frontiere sì allora stanno bene ma pagano le tasse dal loro yacht in effetti eh pagare le tasse dallo yacht è una cosa cioè intendi premo un bottone sul capire ah le tasse pagano ma allora in realtà a me preme non dover avere a che fare con il sistema italiano è burocratile ma ci vorrebbe un rig una rig in artist per il sistema italiano burocratico che risolve i problemi e facilita la vita a noi ci vorrebbe sai cosa un service designer esistono anche che qualcuno all'inps o ovunque nel sistema delle tasse italiano assuma dei service designer per rendere la cosa un po' più agevole perché sembra che tutti stiano avendo un sacco di difficoltà con la fattura elettronica allora io non lo voglio sapere io queste cose non le ho mai fatte però io per siete orribili ok il vostro sito funziona di merda so che nell'ultimo anno è stato invaso e non è possibile che succeda una cosa di genere perché i miei dati del cazzo non li deve vedere nessuno quindi datene una sistemata io voglio pagare le tasse dal mio telefono ok non è possibile fare questa cosa trovate un modo per rendere un modo facile per darvi i soldi almeno questo un modo io so io non so di nessuno qualcuno ce l'avrà però io non so di nessuno che è il commercialista in Inghilterra le tasse la gente se le fa da sola guarda io so che la burocrazia è molto facile in Inghilterra io questo lo so questo l'ho sentito anch'io io non ho mai lavorato freelance però so da gente che lavora freelance che è molto più facile che in Italia quindi per favore mi piacerebbe anche lavorare dall'Italia però aiutatemi ad aiutarvi nel senso voi volete i miei soldi io ve li do anche però aiutatemi a darveli in modo normale qui è incredibile io ho sentito questo mio amico che è in Inghilterra e ha detto io dovevo ritirare la carta di identità è andato lì dallo sportello e fa io dovevo ritirare ok vai pure a casa e ti arrivi direttamente a casa e hai fatto la richiesta ok a posto tipo non so quanti giorni ma pochissimi che avevo a casa qui devi fare la fila la bambina che piange e il numerino in mano ancora siamo ancora indietro sì forse da questo punto di vista sì però tu hai lavorato in Italia puoi io ero assunta come sono assunta ora io non ho lavorato neanche adesso non sono freelance fatemi questa esperienza è una roba bellissima è tipo la gavetta che uno si fa portate i soldi dall'inizio però devo dire e taglierò questo pezzo per mandarlo al mio commercialista perché è fisco zen ragazzi fisco zen e non sta sponsorizzando secondo te lo faccio? ma sai che stavano parlando oggi stavano parlando dei amici appunto che avevano tutti fisco zen quindi è una cosa che hanno tanti magari si sponsorizza fisco zen se sponsorisi il podcast io lo dirò a tutti perché è una cosa fighissima io faccio tutto dal mio computer ho il mio il mio consulente in una chat che ora ce l'ho dedicato a me e praticamente io vedo la mia previsione delle tasse dell'anno prossimo vedo quanto ho fatturato l'anno scorso in confronto in un grafico è fighissimo io mi devo solo preoccupare di fare soldi e poi quella è la parte più importante appunto perché si chiama fisco zen quindi unicamente la parte più facile in tutto questo discorso fare i soldi quando e io davvero io davvero taglierò e manderò una mail a fisco zen di questo dicendo che quando un servizio funziona bene ne vale la pena anche se non mi pagano ne vale la pena di parlare magari c'è qualcosa di cui vuoi fare lo sponsor adesso c'è qualcosa che ti senti di voler insomma promuovere qui se è free of charge perché sarebbe un dissing ma chi se ne frega che poi magari veramente una serie di lettere a casa no vabbè non devi non intendevo non intendevo dire male di qualcuno esatto dissing a parlare male io come ho parlato di fisco zen loro lo savano molto no io per ora il mio problema mi servirebbe un reartist per la questione spedizione pacchi internazionale ah già la questione che mi trova abbastanza la brexit è la gioia di tutti noi adesso perché a te non hanno ancora mandato lo starter e non mi senso di dare la colpa allo studio non solo perché poi mi licenziano anche perché lo penso davvero perché ad esempio a Natale danno un pacco di regalo il pacco regalo no il cesto con i biscotti il mio lo sta mangiando un tipo indogana ancora adesso se lo sta gustando quel battaglio del tempo e sì diciamo che non è la prima mi è arrivata ieri la maglietta del gioco di Jurassic World che è uscito e lei ce l'ha già tipo un anno fa io non l'ho mai avuta in realtà perché sono uscita sono andata via dal progetto prima che venisse cioè mi hanno messo su un altro progetto prima che venisse insomma pubblicato e credo di essere stata rimossa da tutta la lista dei dipendenti che dovevano ottenere insomma i gadget e quindi è il momento giusto che è uscito sì è una cosa che succede quando te ne vai a metà di un progetto anche se tu l'hai fatto fino al giorno prima della consegna non ottieni più niente perché non sei più una lista la fanno alla fine la lista allora io devo dire una cosa questa puntata è stata fighissima lo dici a tutti l'hai detto anche a Pietro no io ho detto io ho detto un'altra cosa io ho detto questa puntata è stata fighissima non ho detto forse è stata una delle puntate più belle ah ok siamo un gradino un po' per arrivare io sono sincero questa puntata è stata fighissima lo apprezzo molto perché Pietro Pietro è stato ha spiegato tante cose ha detto tante cose è stata bella però questa è stata figa è stata figa come puntata perché abbiamo detto cose che secondo me erano super interessanti erano super interessanti e poi quello che volevo dire è che tu hai amici familiari qui a Milano e nel giorno che tornerai tu lavori da Milano? sì sì ah ok tu allora ci vediamo tu hai un altro amico quindi ci potrai hai altri amici perché ci potrai trovare ci potrai trovare qui verrà a trovarmi sicuramente dai sarete una delle mie prime età quando tornerai faremo un'altra puntata mangeremo patatine bevemo una birra e avrai Elgazi come come amico e posso posso fornirti a Iosa persone che ti parleranno come ti dicevo prima noi siamo sul tipo server pieni di italiani che fanno questo lavoro uno è descostumati e l'altro è Zitabrash Italia Zitabrash Italia secondo me c'è gente davvero davvero interessante sì in tutte e due molte persone sono su entrambi ok ma sono tutte persone che hanno specializzazioni diverse a livelli di expertise direi considerevoli che potranno parlarti lungo e largo alcune lavoravano recentemente ad ILM che tu hai mai nominato Brainstorm Dive Negative Axis e anche ad altri tanti altri studi di game adesso ho nominato quelli di VFX però ci sono tanti altri studi di gaming e di outsource per game non è una cosa negativa comunque c'è una realtà italiana abbastanza forte di 3D artist cazzo facciamogli vedere questi 3D artist ci stanno facciamogli alcuni di noi in realtà ti stavo dicendo io e lei non l'avevo mai vista di persona e molte di queste persone anche non le ho mai viste di persona e direi che siamo cresciuti tanto durante la pandemia insomma passione per il 3D e insomma come un'esperienza lavorativa e personali ci hanno insomma unito attraverso Discord adesso questo diventa un disclaimer cioè diciamo un sponsor non ufficiale di Discord è figo Discord è figo è figo ma quindi come ti ho detto troverai sempre amici e io sono sempre qua noi ci iscriviamo perché voglio sapere voglio sapere tante altre cose e e niente poi una volta che pubblico il video vedrai ti manderò il link così puoi spammare e poi magari se vado in UK ti vengo a trovare sei super benvenuto davvero? sì hai bisogno di un divano dove cresciare io sono brasiliano quindi cioè l'ospitalità a me piace quindi se ti piace offrirla o riceverla? offrire riceverla riceverla è facile non è facile uno deve anche convincere l'altra persona di essere un degno ospite eh sì darla è forse più semplice ti lavo i piatti se vuoi non lo so se vuoi cucinare cucina sai cucinare? no però cucino ok allora scusami non voglio chiedere cose che non sono possibili prima di venire imparo certo non ti farò lavare il bagno però se vuoi puoi lavare i piatti dai va bene va bene Arianna sì noi ci sentiamo visto che sei a Milano ci vorrai trovare spesso poi dimmi che figure ti salvano quindi porto se ti vuoi a raccogliere guarda sono stato davvero contento come ti ho detto è stata una puntata fissima e lo so che c'era tanto altro da approfondire però no no se ti va noi andiamo a bere una cosa dopo sì 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 facciamolo facciamolo offline 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 e poi possiamo fissare ecco basta ormai l'ha detto lui quando torni rifissiamo un'altra puntata io faccio tutta la tarantella sul fatto che noi siamo su tutte le su tutte le piattaforme di podcast quindi spotify google itunes eccetera e poi su youtube in youtube vogliamo creare una comunità di legata al visual design e alla creatività quindi tutto quello che pensate dal 3d al rigging al lightning potete trovare qui dentro in questo podcast e poi altri progetti che ci saranno in futuro quindi dentro elgazi podcast in youtube troverete tanti contenuti in futuro per il momento non c'è c'è solo il podcast ma troverete tanti altri contenuti in futuro quindi iscrivetevi e non dimenticate di cioè se volete ricevere ogni podcast ogni giovedì di attivare quella campanella del cazzo così vi arrivano le notifiche e poi niente noi ci sentiamo probabilmente giovedì prossimo saremo in giovedì prossimo saremo in live quindi ci troverete in live purtroppo questa è stata registrata ma le prossime saranno in live per problemi tecnici quindi io vi saluto ciao